Chiara Ferragni e Fedez insieme ma in foto separate. Come ben saprete è da diverso tempo che si parla di una presunta crisi fra Fedez e Chiara Ferragni e proprio oggi un altro dettaglio si è aggiunto alla lista. Infatti come ben saprete è il compleanno del loro primogenito Leone e Lucia Ferragni e i suoi genitori hanno organizzato una mega festa a cui ovviamente entrambi hanno partecipato. Tuttavia nel momento delle foto Chiara e Fedez se le sono scattati in due momenti diversi. Questa è quella di Chiara mentre questa è quella di Fedez. Quindi nessuna foto di famiglia. Si può considerare un altro indizio della presunta crisi fra Chiara e Fedez ma soprattutto arriverà o no questa foto di famiglia? Noi ovviamente vi terremo aggiornati e dalla redazione di Webbo per oggi è tutto.